ciao a tutti da vittorio buongiorno come state oggi è il mio compleanno ma non vi lascio soli vi faccio questo video anche oggi e ovviamente alle due continueranno altri prodotti sul canale ovviamente tema lazio se vi volete fare un regalo abbonatevi al canale sto scherzando se non siete iscritti però fatelo perché ogni giorno carico almeno due a volte tre video sulla prima squadra capitale quindi se siete bianco celesti o simpatizzanti bianco celesti iscrivetevi al canale vi annuncio che alle due sul mio altro canale iscrivetevi anche la per favore escerà il mio pronostico ovvero le prime quattro della serie a secondo me è molto presto per far pronostici però ci proviamo ci divertiamo un attimo piccolo spoiler fra le prime quattro non ho messo la lazio e allora sfruttiamo questo assist perché ho parlato di calciomercato ho parlato di tati eccetera ma cosa ne penso della lazio dove arriverà la lazio quest'anno beh è molto difficile dirlo adesso perché la lazio come molte squadre come la juventus eccetera è ancora un cantiere aperto però qualcosina lo possiamo dire insomma il mercato non è stato soddisfacente la cosa che mi fa impazzire tra virgolette è che leggo su facebook delle pagine laziali che dicono attenzione perché la lazio quest'anno è più forte di quella dello scorso anno ci vuole coraggio a dire una cosa del genere perché obiettivamente la lazio non è più forte di quella dello scorso anno è abbastanza evidente la cosa no lo scorso anno e luisa alberto e ciro immobile e felipe anderson e camada insomma la qualità c'era quest'anno la qualità non c'è sicuramente una squadra di più gamba più dinamica ma anche di meno esperienza poi qualcuno mi potrà dire ama ciro ha fatto male lo scorso anno eccetera sì è vero ciro ha fatto male lo scorso anno però tu ricordati che senza ciro non passavi il turno di champions league che nella partita chiave contro feinold e contro celtic i gol te li ha fatti quello scarpone di ciro immobile perché immobile non era più l'immobile di un paio d'anni fa ma nella partita decisiva immobile ha fatto la giocata del campione quest'anno ce l'ha il campione che ti decide la partita decisiva perché segnare contro venezia non è così difficile non senti la tensione segnare al dermi segnare contro aiue al novantesimo eccetera è un'altra cosa è un'altra cosa in più è vero luisa alberto non ha fatto benissimo lo scorso anno sono il primo a dirlo e l'ho detto tante volte lo scorso anno però quante giocate d'ha fatto lo spagnolo lo scorso anno nonostante la stagione negativa tante non bisogna dimenticare che in alcune partite luisa alberto è stato determinante è stato decisivo e adesso non ce l'hai più e delle basciru può essere decisivo in partite importanti beh secondo me quest'anno farà fatica a farlo forse fra due anni ma la qualità l'assess di luisa alberto tu non ce l'hai quest'anno e questo è un problema siamo più giovani sicuro ci abbiamo più gamba mi sembra di dire di sì ma la qualità è evidente che è calata poi magari riesce a fare più punti dello scorso anno ma un conto è fare più punti un conto è dire essere più forti puoi fare più punti perché magari ti rubano meno partite io penso a Lazio Milano dello scorso anno la Lazio perse tre punti in maniera scandalosa e non ci fu solo Lazio Milano lo scorso anno dove gli arbitraggi furono molto strani però in generale questa Lazio non è più forte di quella dello scorso anno non ci dimentichiamo che la Lazio dello scorso anno perse punti anche perché era il Champions League e la Champions punti li toglie adesso vediamo anche cosa succederà con l'Europa League qui abbiamo un allenatore che non ha mai affrontato una avventura europea un sacco di giocatori giovani alla prima esperienza europea c'è il pericolo che l'emozione la poca attitudine la poca esperienza abbia un impatto negativo sul gruppo per cui secondo me questa squadra non è più forte di quella dello scorso anno nonostante ci rimobile male eccetera eccetera Felipe Anderson onestamente è più forte di Shauna credo ci sia poco da discutere Isaacsen lo scorso anno era la riserva di Felipe Anderson non possiamo dire adesso che Isaacsen è più forte di Felipe Anderson Felipe Anderson è un giocatore più completo di faceva la fase difensiva eccetera a centrocampo abbiamo perso tanta qualità non solo ma quest'anno a centrocampo abbiamo meno opzioni perché è mandato via Danilo Cataldi e non l'hai sostituto in difesa abbiamo un bel punto interrogativo perché abbiamo già visto nelle prime tre giornate che la Lazio ha preso gol da tutti la Lazio ha preso due gol dall'Udinese due dal Milan e uno dal Venezia tre due giornate cinque gol dietro evidentemente c'è qualcosa che non funziona attenzione anche lo scorso anno non ha funzionato molto però quest'anno non sono sicuro che hai risolto i problemi io credo che con questa squadra molto giovane la Lazio farà alti e bassi magari ci saranno prestazioni sorprendentemente positive e prestazioni sorprendentemente negative l'abbiamo visto contro l'Udinese la Lazio non è praticamente scesa in campo e sì adesso l'Udinese sta andando bene ma la Lazio poteva e doveva fare di più secondo tempo nel Milan la Lazio ha fatto bene i primi minuti molto bene però poi ha concesso alle haul gol del pari che è stato quasi un regalo ecco secondo me questa sarà la stagione della Lazio partite vinte un po' a sorpresa partite perse contro squadre con cui dovevi vincere e questo mi porta a considerare e questo ragionamento mi porta a pensare che la Lazio non chiuderà fra le prime quattro perché per finire il Champions League devi praticamente essere costante non perdere mai le partite che devi vincere e ogni tanto battere le big io credo che la Lazio qualche big la batterà ma temo che come successo a Udine prenderà delle sconfitte contro squadre più deboli e questo comprometterà il cammino Champions io obiettivamente credo che Inter sia la squadra più forte Juventus Napoli anche lo stesso Milan onestamente sulla carta più forte della Lazio senza dimenticare l'Atalanta ecco io dico che se le cose andranno bene se Dia sarà quello di sabato se Nugno Tavares riuscirà a giocare con continuità eccetera la Lazio può ambire al sesto posto secondo me Roma e Fiorentina potrebbero avere qualcosina in più la Roma di più della Lazio la Fiorentina siamo quasi là e quindi se le cose andranno bene per la Lazio la Lazio può arrivare sopra queste due squadre altrimenti la Lazio finisce settima e ottava quella è la mia previsione per questa squadra ma lo dico perché mi attendo mi aspetto una stagione in cui Ciaunà farà tante partite come quella contro il Milan ma farà anche delle partite dove sarà immarcabile discorso simile per Isaacsen, Kasseianos eccetera eccetera hai perso la qualità hai perso la costanza hai perso quella certezza che avevi fino al scorso anno e questa la pagherai inevitabilmente questa è una squadra per un progetto triennale quest'anno si soffre l'anno prossimo sperando con l'innesto di qualche giovane migliore si cresce e fra tre anni secondo me la Lazio può puntare al quarto posto ma quest'anno obiettivamente secondo me la Lazio se arriva sesta è un ottimo traguardo visto la rosa perché l'obiettivo della Lazio deve essere sempre quello di competere per la Champions League ma vista la rosa e vista le rose degli altri secondo me il massimo che può fare Baroni è il sesto posto senza dimenticarci una cosa che Baroni ha la prima esperienza in una grande piazza di una squadra in Europa mi aspetto purtroppo degli errori da un allenatore che ha la prima esperienza europea non sarà facile e non è facile gestire l'incontro giovedì e poi weekend ci sono giocatori che saranno stanchi bisognerà gestire le energie bisognerà decidere volta per volta chi far giocare in Europa chi in campionato insomma scelte che Baroni in precedenza non ha mai fatto e quindi questa sarà la prima volta e questo può portare a degli errori l'abbiamo visto secondo me contro Udinese Baroni sbaglia formazione io non avrei mai fatto giocare vicino titolare ma avrei fatto giocare Cataldi o Rovella ecco Baroni ci farà tra virgolette perdere punti e anche il calcio di Baroni secondo me ci porta a questo risultato il calcio di Baroni è molto offensivo quindi ci saranno partite dove la Lazio farà balanghe di gol ma partite dove la Lazio prenderà tanti gol perché sarà sbilanciata e una squadra che lotta per la Champions non può essere sbilanciata se troveremo l'equilibrio potremo ambire a qualcosa di più ma visto l'andazzo delle prime tre partite per me il sesto posto è il massimo che può raggiungere questa Lazio sono stato eccessivo troppo positivo troppo negativo ditelo nei commenti e mi raccomando mettete mi piace e noi ci vediamo alle due con un altro video grazie ragazzi Grazie a tutti